c'è una foto qua che ti penzerà tutta cazzo magari mi agganci il manubrio andiamo? vado io? ci sono tutti? sai che tante volte vanno di là vado io? vado io? aurelio di dietro andiamo grazie 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 steep grazie 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 Vai, va, no, lo doy, o? Sesta! mi hai fatto quello la poi e volevo filmare cazzo l'aggancio l'ora dimmi amico basta adesso qua tutto è discesa è il saggio arriva eccolo andiamo questa adesso è bella andiamo 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 e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto di fila senza quell'interruzione. Se vuoi fare lo sky è questo, Silvia. Se vogliamo andare giù a Roncarlo, di là. Tu vuoi mettere il sangue? Puoi chiedere dove arriva? Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, i pantaloni. Scusa. 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 Figa, si è incastrata la papia nel calzofno.